ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata dei senza tempo dato che era qualche puntata che non lo dicevo nel caso non si ricordassero buongiorno a tutti oggi affronteremo una serie di film che come punti in comune hanno il fatto di svolgersi principalmente in un luogo solo e usando le telecomunicazioni cioè i telefoni esatto poi non mancheremo di fare una puntata su altri posti su altri film in un posto solo ma senza magari il telefono il primo film di cui vogliamo parlare è un film abbastanza moderno essendo che è uscito l'anno scorso che potete trovare su amazon prime video e che si intitola 7500 o meglio 7500 che è un film di patrick vorrat se lo dico correttamente che è un regista tedesco e qui era al suo primo lungometraggio brevemente la trama è questa tobias ellis interpretato da joseph gordon levitt che non vedevo da un po' è il copilota americano di un volo di linea da berlino a parigi poco dopo la partenza scopriamo che a bordo ci sono dei terroristi che cercano di prendere il controllo dell'aereo tobias si riesce a chiudere dentro la cabina di pilotaggio che è molto difficile da penetrare e da lì comincia via radio e tramite un telefono interno e un piccolo monitor a comunicare da una parte a quell'autorità e dall'altra con i dirottatori e questa è la trama del film di più non vi possiamo dire di più è questo anche perché è un film che rispetto ad altri che abbiamo citato in puntate precedenti dura relativamente poco un'oretta e mezza ma a dirla si è una caratteristica di quasi tutti i film che andiamo tutti i film che citiamo oggi credo che sia anche legato appunto alla scelta difficile di film com'è questo e come saranno i seguenti perché quando svolgi tutto il film praticamente in una location sola è difficile tirarla per le lunghe senza annoiare lo spettatore devi essere molto bravo e la scelta di non non superare una determinata durata secondo me è ottimale per il film sì 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 assolutamente qui comunque è un'ora e mezza che secondo me funziona per un'ora nel senso che a me il film nel complesso è piaciuto joseph gordon louis è bravissimo qua l'ho apprezzato tantissimo anche perché come capiterà spesso in questa puntata louis si porta sulle spalle il film l'unico altro attore diciamo degno di nota nel film è omid memar che è uno dei dirottatori che avrà parecchie interazioni poi con con levit non vi diciamo niente di che perché sarebbe quasi tutto un po uno spoiler l'unica cosa che vi posso dire è che appunto buona parte del film ha una gran dose di tensione lui ce la fa credere tutta lui noi siamo in aereo con lui e guardando un po in giro ho visto anche persone che lavorano nell'ambiente dire che anche se tecnicamente è molto preparato molto si esatto alla realtà esattamente poi però dopo tre quarti di film ha un po un' ascesa si perde un po si va a perdere nel finale diciamo così sembrava quasi che non sapessero come dove andare a parare esatto che è un peccato perché veramente la prima parte del film comunque vale la visione nel senso io comunque lo consiglierei il film inizia con delle scene diciamo che non ti se tu non hai mai visto il trailer non hai mai guardato nulla sul film non è che sia una grande sorpresa quello che sta per succedere perché il film da subito inquadra con delle telecamere cerca di fartelo capire subito sì 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 ci sono queste telecamere dall'aeroporto che inquadrano i terroristi e dopo saliamo a bordo dell'aereo con con lui e il pilota e viene inquadrato questo monitorino che dà sull'aereo che all'inizio in questo monitorino vediamo le hostess comunicare con loro però ci sono questi queste inquadrature dei dettagli che ti fanno capire poi come e dove si svolgerà il film praticamente però sono proprio dei lunghi dei lunghi momenti di inquadratura solo sul monitorino che tu dici sì ho capito sta per succedere qualcosa da quel punto di vista è un pochino banalotto secondo me il film nel senso del la storia di base ci sono i dirottatori i dirottatori su un aereo cercano di fare principalmente una cosa quindi non è sì esatto però tu cioè io speravo ci fosse qualche motivazione in più invece da quel punto di vista è proprio base base e il fatto che sia un aereo che va da berlino a parigi ma ci tengono a sottolineare che lui invece perché il pilota ufficiale è tedesco lui è americano americano ci tengono a sottolineare questa cosa che a me ha un po' infastidito sì ok i dirottatori 2001 e lui è americano su queste cose il film è veramente scontatissimo è molto si basa su luoghi molto comuni però devo dire lui veramente eccezionale omit memara anche ripeto tre i primi tre quarti del film comunque valgono diciamo che lo potete vedere su amazon prime però diciamo valgono il biglietto sì anche a me come film è piaciuto l'aspetto più mi ha colpito è proprio l'aspetto tecnico che c'è dietro al film perché comunque io ho un parente che lavorava in ambito di aereo e aeroporto e quindi da piccolo mi è capitato di avere di entrare anche in una cabina di un aereo posto di guida quindi entrare proprio fisicamente nel luogo in cui si svolge questo film e tutti gli aspetti tecnici che poi non sono il mio settore ci mancherebbe però si vede che dietro c'è uno studio sì sì non è buttato lì e in questo riguardo a quello aggiungo l'ultima cosa notevole del film le regole lui diciamo che dovendo stare a determinate regole in ambito di sicurezza deve fare dovrà fare delle scelte anche in questo caso parecchio controverse che succedono un po' in tanti ambiti lavorativi quando uno ha determinate regole però poi si trova di fronte alla realtà delle cose che può essere diversa da quello che la regola ti impone esatto esatto e devi devi fare una scelta insomma consigliato ma potrebbe lasciarvi un po così verso il finale diciamo che a me quello appunto che purtroppo ha colpito non dico in modo negativo però poteva essere fatto in modo migliore sicuramente un po' il finale però alla fine ci si ci si passa sopra io ho cercato di immedesimarmi lui e nelle scelte che dovrà che deve fare e non lo so se poi alla fine avrei reagito come ha reagito lui in certe cose alla fine secondo me fa alcune scelte sbagliate penso che sia una delle cose a cui ti vuole portare il film a ragionare su che scelte avresti fatto tu e a giudicarle giuste o sbagliate il problema è che un'altra persona invece potrebbe pensare che quelle sbagliate sono le tue le giuste sono quelle del personaggio certo certo assolutamente sì sì quello il voler farti ragionare sicuramente è un aspetto positivo le scelte di per sé poi è facile parlarne esatto esatto sul divano sul divano guardarlo però in particolare una è molto una scelta molto molto dura e umanamente non so cosa avrei fatto io in quella situazione però chi ha visto questo film e ci sta ascoltando può dirci la sua opinione lasciando un bel commentino esatto se non l'avete visto andate su amazon prime guardate 7500 e tornate a scriverci quali scelte avreste fatto voi mi raccomando sempre spoiler alert prima scrivendo uno spoiler gigante prima di scrivere vogliamo dirlo perché si intitola 7500 e non 7500 certo certo dillo pure perché questi numeri sono il codice di sicurezza fra virgolette il modo per dire alla parte attore di controllo esatto che l'aereo è sotto attacco terroristico è stato un bel colpo di genio chiamarlo in quel modo lì così se uno non lo sa ha un'informazione in più innanzitutto e capisce che il titolo in realtà appunto si pronuncia in quel modo e non come un numero tutto attaccato e a proposito di scelte passiamo a un film del 2013 si chiama lo che diretto da steven knight famoso per svariate cose tra cui essere il creatore nel senso che l'ha scritto di chi vuole essere milionario l'originale poi è passato appunto a serie tv ai film tra le serie tv più recenti e più famose che ha fatto che in tanti adorano me compreso c'è picky blinders perché parlo di scelte perché anche in questo caso ivan interpretato da tomardi è un capo cantiere in una dita di costruzioni e il giorno prima del lavoro più importante della sua carriera riceve una telefonata e decide di mollare tutto sale in auto e viaggia verso londra per un motivo che ci verrà svelato più avanti nel film il film ci racconta il viaggio in auto di quest'uomo e le telefonate che dovrà fare per avvertire tutti della sua decisione e gestire la situazione che andrà a svilupparsi sia a livello familiare sia a livello lavorativo come al solito io vabbè non ho mai trovato un film in cui tomardi non sia bravo persino venom che a me ha fatto veramente non uso parolacce ma insomma si è schifo ecco usiamo schifo lui comunque non mi era dispiaciuto era tutto il resto che non funzionava specialmente la sceneggiatura e anche qui secondo me tomardi è eccezionale come dicevamo prima regge da solo tutto il film perché noi abbiamo a che fare solo con tomardi e al limite con delle voci che intanto questo film io consiglio di vederlo in lingua originale proprio perché essendo basato sì ok su tomardi ma anche su delle voci sono molto importanti le voci originali le voci che sono state scelte e non sono neanche degli attori che passano di lì per caso perché un personaggio interpretato da olivia colman che potreste conoscere per the crown o la favorita un altro interpretato da tom holland il lo spider man più recente gli ultimi film troviamo ruth wilson di cui abbiamo abbiamo parlato indirettamente di lei recentemente perché era una delle attrici in saving mr banks esatto e un altro attore che io adoro che è andrew scott che potresti aver visto in fleabag o in sherlock in sherlock diciamo che è veramente pazzesco cioè conoscerlo dal vivo per capire quanto sia davvero così o quanto sia bravo a interpretare i pazzi perché è veramente eccezionale fa anche un cameo se lo volete vedere su amazon prime in 1917 però fa parte di tutti quei piccoli cameo un po diciamo esagerati mentre qui non sono cameo comunque sono dialoghi belli lunghi e importanti il film a me è piaciuto però anche qui il film alla durata giusta dura un'ora e mezza io ho letto solo e soltanto amore per questo film e infatti io lo volevo vedere del 2013 io lo volevo vedere da tanto tempo per uno di quei film che dici sia adesso poi lo vedo adesso poi lo vede non c'ero mai riuscito finalmente l'ho recuperato mi è piaciuto tomardi bravissimo però io comunque l'ora e mezza un po' l'ho sentita mentre diciamo che tutti dicono che è fantastico che sembra durare cinque minuti perché lui è bravissimo perché tutto il film scorre una meraviglia a me sinceramente dopo un po' però mi è pesato anche perché quello che noi non stiamo svelando a voi cioè il motivo per cui lui è partito e altri dettagli che andranno a svilupparsi dopo un po' del dopo una parte del film vengono tutti a galla e secondo me lì il film perde un po' del suo pathos sì esatto perché ormai sai perché quindi ti perdi cioè ti toglie un po' l'effetto sorpresa che invece ti tiene incollato finché non capisci i vari motivi infatti rispetto al film di cui abbiamo parlato prima questo io ogni tanto andavo a vedere quanto ne mancasse alla fine che non è un buon segno esatto nel senso anche se in effetti dura abbastanza poco però dopo un po' ti pesa ma soprattutto la cosa che a me è più fra virgolette infastidito sembra che ad un certo punto tutti diventino un po' scemi nel senso che ripetono le cose uno gli fa una domanda risponde com'è il tempo fuori oggi è martedì cioè cose che non c'entrano niente e quindi boh quel punto di quel aspetto lì mi ha lasciato un po' un po' perplesso ho detto ma che non c'entrano niente non me lo ricordo però sul fatto invece che si ripeta è stato esatto il mio problema nel senso che quando vengono fuori tutte le cose che possono venire fuori a un certo punto iniziano un po' a ripetersi certo può essere lo svolgimento nel senso se io litigo con te in una telefonata poi butto giù poi mi richiami probabilmente continueremo a litigare della stessa cosa quindi non dico che non abbia senso però sembrano un po' tirarsi per le lunghe queste cose e non sviluppare ulteriormente la sceneggiatura nel complesso anche questo ad esempio una cosa che a me ha dato fastidio abbastanza è quando parla con una certa persona e dice sì sto quasi arrivando sono per strada non c'è traffico il traffico è scorrevole tutte queste cose qua che vabbè me l'hai detto già una volta e basta perché me lo devi continuare a ripetere quindi quell'aspetto lì a me è dato un po' fastidio no vabbè quello no io non l'avevo vista così però sì nel complesso io forse mi ci sono approcciato con un grande hype che avevo da anni sarà colpa di quello però mi aspettavo qualcosa in più non dico che non mi sia piaciuto è comunque un sicuramente un bel esperimento perché ripeto non è facile fare questi film e tomardi comunque è incredibile l'unica cosa che mi ha un po' deluso questa ve la ve la dico già ora nel film lui è raffreddato e io ho detto che bravo tomardi sembra veramente raffreddato e infatti era raffreddato lui ha fatto mettere nel film che fosse raffreddato perché lo era e ho detto vabbè a me non ho dovuto fingere no esatto però è veramente veramente eccezionale ci sono delle scene di diciamo dei dialoghi veramente notevoli anche delle frasi che possono sembrare banali ma come le fanno come vengono messe nel film sono eccezionali tipo a me è rimasta impressa quella che non è uno spoiler perché non capirete assolutamente nulla però lui dice hai una penna e l'altra persona dal telefono gli risponde ho una matita una matita e lui gli risponde vai a prendere una penna c'è questo questa forzatura questa ansia nel film è notevole anche solo che grazie a queste frasi purtroppo secondo me dopo un pochino sì la pesantezza c'è anche le inquadrature ogni tanto queste inquadrature della macchina da fuori della strada si servono a niente per variare un pochino esatto perché sei 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 forzato però comunque anche qui nel complesso è un film che consiglio sì perché è un po' come quando si parlava di joker puoi trovarci dei difetti però se poi dici ma cosa ne pensi di walking phoenix solo applausi per lui idem tomardi sì sì assolutamente diciamo che sarebbe stato interessante se avessero fatto un po tipo i film dei me contro te cioè che durano un'ora e fine questo paragone mi sembra quantomeno azzardato però quelli durano poco quindi alla fine hai paragonato tomardi ai me contro te il successo ce l'hanno tutte e due purtroppo fra virgolette mi dissocio io mi dissocio te lo dico ovviamente lì per me contro te c'è un discorso legato ai bambini alla soglia di attenzione dei bambini eccetera certo certo ma ci mancherebbe ci mancherebbe però il fatto appunto di avervi essere andato a guardare quanto mancasse alla fine del film non è un aspetto positivo no non è mai un aspetto positivo non è mai un aspetto positivo quindi me contro te tutta la vita mi continua a dissociarmi passiamo a un altro passiamo a un film del 2018 che è the guilty il colpevole di gustav moller credo visto che è un regista svedese anche se poi il film in realtà è danese perché lui poi è cresciuto nel cinema danese anche in questo caso al suo primo lungometraggio quindi anche lì c'è 7500 e questo film stiamo parlando di gente al suo primo film vero e proprio e in ogni caso con le critiche che abbiamo detto complimenti magari possono solo migliorarsi quindi esatto in teoria poi non è detto però in teoria questo caso asger holm interpretato da jacob cedergren cedergren non lo so non uccidetemi è un agente di polizia che avendo evidentemente fatto qualcosa di sbagliato è stato relegato al centralino per le chiamate di emergenza capiamo subito che il giorno successivo a quello che viviamo noi asger ha un processo per questa situazione e se alle prime telefonate risponde quasi con scazzo o prendendo in giro l'interlocutore poco dopo arriva la telefonata di una donna che invece lo distoglie dai suoi pensieri a chiamarlo è i ben che è stata rapita da un uomo e i suoi figli sono da soli a casa holm all'improvviso si fa serio e non si staccherà più dal telefono anche dopo la fine del suo turno finché non avrà risolto la situazione dove si può vedere questo film si può vedere su amazon prime come anche locke e 7500 esatto anche questo è un film tosto anche questo è un film decisamente coraggioso perché anche qui va per un'ora e venti il film si svolge al massimo in due stanze la prima è quella del del centralino diciamo quella comune con tutti gli altri operatori e poi c'è una seconda stanza dove lui va a chiudersi per diciamo essere più in privato però sempre nello stesso ambiente per il resto siamo lì e lui passa tutto il tempo con questa auricolare a cercare di e anche qui è una sono una serie di telefonate infatti il film che viene più in mente se lo si è visto è proprio locke perché lui fa più telefonate a più persone e anche in questo caso ci sono determinate risposte determinati attori che rispondono al telefono anche se in questo caso non abbiamo le grandi star di locke in questo caso è un film di diciamo redenzione perché comunque noi capiamo fin dall'inizio che lui ha questo processo in sospeso che gli ha che gli crea grandi problemi e che chiaramente l'ha messo in questa situazione di questo lavoro diciamo degradante per un per il tipo di persona che probabilmente era prima e il tipo anche di lavoro che faceva prima esatto mentre prima risponde a delle telefonate dove magari una delle prime è uno che si è fatto rubare un portafoglio da una prostituta chiaramente all'inizio non lo vuole ammettere e lui lo capisce e lo prende anche per il culo quando arriva questa telefonata si fa serio e non riesce più a smettere di trovare cercare di trovare la soluzione anche perché è un percorso di attenzione suo non vi sto facendo uno spoiler lo capiamo che questa cosa per lui diventa importante perché ci tiene perché deve in qualche modo aiutare qualcuno che però abbia un problema serio ed è l'attore anche lui qui fa un bel lavoro è assolutamente il centro il fulcro di tutto il film in questo caso ci sono delle inquadrature su di lui veramente pazzesche per farci per farvi capire il film inizia con l'inquadratura dell'auricolare sull'orecchio proprio una zoomata su un super macro sull'auricolare sì sì che c'è una zoomata in realtà si allontana piano piano dalla dall'auricolare quindi ci fa vivere tutte le sue preoccupazioni tutti i suoi stati d'animo è un film forte con un l'unica cosa un risvolto che può essere prevedibile potreste arrivarci come no però in ogni caso bello il risvolto intendo nel senso che anche doveste averlo capito è comunque una è comunque una scelta interessante per me consigliatissimo complimenti a moller tu non l'hai visto in questo caso te lo sono curioso comunque di di sapere se questo lo vedrai se avrai la stessa sensazione di locke cioè dopo un po guardi quanto manca o se ti ha intrattenuto di più io devo dire che fa il fa il suo sporco lavoro anche qui ho visto delle delle lodi al capolavoro che io forse non non avrei dato però indubbiamente è un altro film coraggioso e prima opera bello bravi tutti qualcosa velocissima fra questo e locke qual è il meglio ma questo è un po più freddo di locke io da un punto di vista attoriale hanno tutti lodato questo attore jacob però io ho un debole per tomardi quindi darei comunque il mio voto a tomardi come film in sé forse vince il colpevole passando invece a un altro film in questo caso nostrano cioè italiano non possiamo non citare brevemente perfetti sconosciuti che è un film del 2016 diretto da paolo genovese in cui la trama è semplicemente che un gruppo di amici si riunisce per una cena in casa e decidono di fare un gioco cioè mettere ognuno il proprio telefono sul tavolo e condividere a voce alta tutto quello che arriverà su quel telefono quindi sia chiamate whatsapp email o messaggi normali ovviamente è la serata più sfigata del mondo perché ognuno riceve chiamate messaggi che non dovrebbe ricevere proprio in quel momento quindi come possiamo ben immaginare e il trailer stesso ci fa già capire principalmente di amanti quindi tradimenti cose del genere nel cast comunque possiamo trovare c'era un cast abbastanza corale perché troviamo marco giallini edoardo leo anna foglietta giuseppe battiston valerio mastandrea e benedetta porcaroli non hai citato mi rendo conto che sia difficile il nome ma una delle mie attrici preferite del film alba romhacker romhacker perché lei è il personaggio più strano fra tutti quelli che sono seduti al tavolo e appunto come dicevo poco fa qua si parla principalmente di tradimenti però devo dire che si affrontano anche delle altre tematiche che forse sono l'aspetto che più mi ha colpito positivamente di questo film tipo il concetto di famiglia se avere dei figli figli oppure no quindi se obbligatorio che la famiglia per essere definita tale abbia dei figli o meno il concetto di amicizia stessa il concetto di accettazione delle differenze esatto infatti proprio quello è forse la cosa che più mi è piaciuta il come si reagisce a certe notizie e come se si riescono ad accettare certe cose oppure no e devo dire che forse quella scena lì in particolare è una delle più belle di tutto il film senza fare ovviamente spoiler sì secondo me quella scena lì è la scena senza fare spoiler sulla figlia sulla figlia di giallini e la smutniac senza dire di più però quella telefonata lì è molto 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 pesante infatti il fra tutti i personaggi il personaggio di rocco che proprio interpretato giallini è un po il mio preferito per ciò che dice per l'ironia che ha è quasi un modello da seguire nel senso e appunto questa telefonata che fa con la figlia sicuramente ti colpisce e ti può dare uno spunto per dire se un giorno avrò anche io dei figli se riuscissi a parlare in quel modo a consigliarli in quel modo sarebbe molto una cosa molto bella comunque anche questo lo potete trovare su amazon prime quindi amazon se sei l'ascolto magari faccio e io ero partito diciamo un po prevenuto nel senso che dal trailer o da quello che avevo sentito in questi anni pensavo che il film fosse principalmente basato sui tradimenti e quindi argomenti già trattati in cui poi ognuno si può fare un po la propria opinione diciamo che è facile fare i moralisti ma poi quando si è in certe situazioni chissà se quello che si pensa poi si riesce anche ad applicare però invece tutte le altre tematiche che non mi aspettavo venissero affrontate mi hanno fra virgolette fatto rivalutare il film sì sì assolutamente è un ottimo film del quale secondo che secondo me ha preso ispirazione da altri film stranieri di cui magari parlerò in un'altra puntata perché è sempre comunque sono sempre anche situazioni in un posto solo in questo caso lì a tavola però le affronta bene è fatto bene gli attori sono praticamente tutti bravi a me piace molto appunto la rombacher ma anche giallini io giallini devo dire che fino all'uscita di questo film avevo visto cose in cui mi era piaciuto cose in cui non ero convinto non ero mai non ero mai sicuro del ma è bravo valore o ha solamente una faccia davvero caratteristica perché quello per carità nessuno glielo potrà mai togliere poi io l'avevo già visto anche tipo in boris ovviamente mi era piaciuto anche lui però qui secondo me è di un altro livello lì capisci dici a sì sì ok è anche bravo proprio bravo vale un po per tutti nel film nel senso mastra andrea secondo me in questo film è incredibile è un personaggio ma è mostruoso secondo me forse è il migliore insieme a forse per me anche meglio di giallini però come cosa di sì sì come cosa attoriale anche secondo me è più bravo di tutti in questo film a parte che fa però però devo dire che tra tra tutti non senso non c'è nessuno che direi è sottotono e non è bravo come gli altri tutti fanno la loro porca figura mettiamola così perché comunque battiston è bravissimo forse eduardo leo però comunque ha un bellissimo ruolo ha delle belle reazioni ma è bravo anche lui certo magari se lo paragono a mastra andrea ci perde un pochino ma veramente tutti bravissimi tutti complimenti bel film corale in cui tutti la fanno da padrone assolutamente sì e passando brevemente all'ultimo film che un po prende la tematica ma intanto diciamo la verità perché c'è questo film potevamo fare una puntata in cui non c'era un film in cui c'è colin farel ormai è diventato di casa anche tu caro collins se ci stai ascoltando pagaci il paypal se vuoi trovi come avrete già potuto intuire è un film in cui un uomo entra in una cabina telefonica per chiamare una ragazza da cui ha tratto e per chiederle di vedersi ma lei altri programmi gli da buca e lui niente la telefonata si conclude lui sta per uscire dalla cabina e il telefono all'improvviso suona e ovviamente lui come umano che sia risponde bene da quel momento in poi la sua vita non sarà più la stessa nello specifico quest'uomo si chiama stuart shepherd che è interpretato appunto da un giovane e secondo me bruttino colin farrell stupizzetto che è un pubblicitario un manager che inganna e raggira le persone che si affidano a lui per poter diventare in qualche modo famoso famose quindi tipo attori cantanti eccetera e questa telefonata la fa a pam che è interpretata da un'attrice che andava di moda qualche anno fa poi ultimamente sì qualche film l'ha fatto ma è un po' sparita cioè Katie Holmes il film è del 2002 è di George Schumacher e come tutti potete aver capito è in linea con l'assassino perché come si finisce dal titolo questa chiamata che stu riceve nella cabina è di un assassino un serial killer che ha degli scopi nobili dato che contatta le sue vite le sue vittime al telefono per farle redimere dai propri peccati diciamo che è un po' una trama di un altro una serie in un'altra serie di film di cui abbiamo già parlato cioè solo enigmista che però è del 2004 quindi chissà mai se è stato un po' preso questo spunto da questo film e quindi questo serial killer cosa fa ha un fucile con cui tiene sotto tiro le sue vittime e cerca appunto di farle confessare i propri peccati e far sì che si possono redimere esatto questo appunto è un film del 2002 quindi è molto un po' datato però io l'ho rivisto per per parlarne con te oggi perché comunque io l'ho visto all'epoca quando è uscito non mi ricordavo bene bene tutto e devo dire che si sentono gli anni che sono passati soprattutto sull'introduzione del film che dice che sì ci sono adesso i cellulari però ancora molte persone usano le cabine telefoniche è un'introduzione che chiaramente suona molto datata perché non sarebbe più credibile ora cioè è credibile il fatto che i cellulari siano diventati importanti nella nostra vita come ancora di più come infatti anche in perfetti sconosciuti no viene esaltato questo concetto del fatto che i cellulari sono diventati le scatole nere esatto esatto lo scrigno con i nostri segreti però qui diciamo che l'introduzione suona suona datata e un film del 2002 non è degli anni 70 voglio dire il pizzetto di Colin Farrell anche secondo me è semplicemente datato poi che lui sia brutto non lo so credo che non troverai d'accordo le ragazze in ascolto staremo a vedere una cosa che mi ha sempre fatto ridere invece del fatto che hai citato la presenza di Katie Holmes è che lei durante il film questo lo posso dire perché comunque non è uno spoiler a un certo punto del film gli dice che è stata presa per rifare Jerry Maguire nella parte che fu all'epoca di René Zerweger Jerry Maguire è un film dove il protagonista è Tom Cruise e se una cosa è famosa di Katie Holmes è stata il fatto che lei sia stata fidanzata e sposata poi con Tom Cruise per parecchi anni ma dopo questo film e questa cosa mi ha sempre fatto molto ridere cioè ci aveva visto Dungo Schumacher non so come cavolo ha fatto sapevo qualcosa che gli altri non avevano intuito esatto come film comunque anche se appunto certe parti sono si vede appunto datate un po' fuori moda però di per sé il film si riesce ancora a vedere abbastanza si lascia guardare anche in questo caso dura ancora meno degli altri perché la durata complessiva è un'ora e diciassette quindi se ti togliete anche i titoli di coda ah ecco ok dura boh durerà un'ora e dodici fai che ci sono cinque minuti di quindi loro sì che avevano preso già spunto dai me contro te certo sapevo che lo dicevi maledetto e però se appunto si lascia guardare anzi magari rispetto a Locke o rispetto a 7500 essendo che comunque è un film thriller si ti appassiona di più perché comunque c'è tutto quell'aspetto lì oltre che del delle telefonate della telefonata del proprio a vediamo cosa succede se quello gli spara se non gli spara quindi ti tiene più incollato anche se è un film di quasi appunto vent'anni fa io ho visto la descrizione thriller anche su film come come Locke e non sono d'accordo perché sì ok c'è della tensione quindi come dicevamo nella puntata sui thriller basta che ci sia della tensione per chiamarlo così che se non avete mai ascoltato recuperate andate a recuperarla però in Locke non è che ci sia proprio una tensione nel senso di paura di terrore di ansia semplicemente ti chiedi come andrà a finire ma quello un po' sì su tutti i film certo esatto con quasi tutti i film è più un film quasi drama quasi drammatico invece questo sì questo è proprio il classico thriller questo non lo puoi chiamare non altro che thriller e a differenza di Locke a differenza di il colpevole a differenza di perfetti sconosciuti dove la fa da padrone l'introspezione nel senso di Locke e il colpevole sono due persone che guardano a se stessi e attraverso delle telefonate ragionano su se stessi Locke ragiona anche con il padre ma non vi posso dire di più perfetti sconosciuti l'effetto causa sono il gioco con i cellulari il dover far sentire vedere a tutti i messaggi le chiamate però comunque poi c'è un gioco di introspezione anche lì in questo caso non c'è l'introspezione il personaggio di Colin Farrell è una testa di cazzo diciamo che qua è proprio obbligato a fare quello che fa qui appunto è obbligato come dicevi te e ricorda appunto film come so ah visto che negli altri film non l'avevo amato sarà forse che qui è una testa di cazzo ma qui Colin Farrell a me piace un casino sì 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 qua assolutamente rispetto a altri film di cui abbiamo parlato qua fa la fa da padrone per tutto il film assolutamente molto bravo fateci sapere nei commenti se avete visto questi film cosa ne pensate e ci sentiamo poi in una prossima puntata ciao ragazzi alla prossima ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao ciao a tutti Grazie.